Io voglio ringraziare Andrea ed Angela in questa occasione perché non sarebbero giunti oggi a celebrare il loro matrimonio se non si fossero fidati di Gesù Cristo. As long as you are there for me, I'll be there for you. As long as we are together, I know we'll be alright. I'll be there for you.